Musica Ah ahi people of youtube Welcome back to a new episode of Se entro uno a parte gli scherzi Benvenuti in questa nuova missione Per la prima volta ci troviamo in questa schermata Perché in teoria abbiamo finito la missione scorsa Ma ne dovrebbe iniziare un'altra Ora quindi Continuiamo Una difficile separazione Hai voglia Mi hanno spaccato solo la testa con una mazza Oh no ci vogliono far affogare Con la macchina Eh immagino Eccola là E ti pare E stiamo per morire Ora Vuoi darmi una mano? Donnie Ehm è voglia Eh Penso che ho trovato la mia lampada Piccolina Trova e elimina Trova ed elimina Sharp Mamma mia Ti spacco la faccia Sharp Appena arrivo Anzi Facciamolo in grande stile Prendiamo la macchinina Ed inseguiamo lo stronzo Hai cercato di ucciderci eh E ora E ora Te la faccio pagare cara Te la farò Pagare malissimo Vedrai Dov'è? Dov'è? Eh come faccio a essere ancora vivo Sono un osso duro Mi dispiace Bastardo Oh qualcuno Sali su Sali su in macchina Così tu spari Eh mi sta seminando Hai voglia che le macchine vanno veloci Quando gli fa comodo al gioco eh Guardalo che salta pure Donna Unguidabili ste macchine Dov'è? Mallevati Aspetta Un po' più stretta La via non la potevano fare Non riesco a passare Eccolo 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 Maledizione Dove vai? Mmm Ha tagliato la strada di nuovo Dai 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 Meno male che abbiamo Sta pistola qua Ma levati anche tu Guardali Guardali come Come si ammucchiano Sti stronzi Siete peggio dei conigli Eccolo Eccolo Madonna mia Che salto Improbabile Che ho fatto Dove sta andando? Dove sta andando? Dio mio Eccolo 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 Ecco fatto No 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 E' morto Però aspetta Aspetta E' morto Cazzo Sono morto Ecco io Ecco fatto Ecco fatto Risolto il problema Addio signor shepherd Nascondere le prove Nascondere le prove 3000 dollari Finito con un colpo di bazooka Come avevo promesso Quindi signori Vi ringrazio tutti per avermi seguito Come al solito se mi avete seguito Se volete dirmi qualcosa Sempre qua sotto Noi ci vediamo al prossimo episodio Ciao a tutti Noi ci vediamo al prossimo episodio